Perché questo è veramente una possibilità più unica che rara. Parliamo di una malattia molto pericolosa, perché spesso anche asintomatica. Questa malattia può diventare cronica ed è una delle pochissime malattie croniche che può essere vinta, dove il paziente dopo questa cura è guarito per tutto il suo periodo di vita. E questo è un motivo particolare per cui questa sfida ci tocca particolarmente. Riusciamo, se tutti partecipano insieme, sicuramente a debellare una malattia. E questo significa, uno, fare qualcosa per la nostra salute. Due, soprattutto anche fare molto per i nostri concittadini, i nostri familiari, perché se noi siamo colpiti da questo virus c'è anche sempre il rischio del contagio. Cioè che noi trasmettiamo questo virus anche ai nostri familiari, ai nostri amici. E questo, penso e spero, sia motivo abbastanza forte per far decidere alla nostra popolazione di partecipare a questo screening e in questo modo poter vincere questa malattia.